Buon pomeriggio, benvenuti alla 27esima giornata di Serie A, dove sul campo fiorentino di San Marcellino si affrontano le padroni di casa del Firenze contro le ospite del Brescia. Nasuti, Rosucci, Rosucci, Rosucci e batte Leoni quando siamo alla nono, in decisione della difesa viola, Nasuti ricama il pirro del calcio femminile e Rosucci mette il rete in fila alla difesa. Sabatino, 31 gol in 26 gare, Cernoia si è invertita con Bonanzea, Cernoia rientra sul sinistro, scocca al sinistro e parata di Leoni, fuori gioco di Sabatino. Bonanzea, Menonzea in velocità e Leoni, Leoni si fa scappare la sfera, Binazzi recupera e c'è il recupero, c'è il recupero dalle retrovie. Bonanzea aveva stoccato, Leoni forse un mezzo pasticcio, aveva recuperato il tiro di Leoni e doppia occasione per i Brescia nell'arco di un minuto quando siamo al sedicesimo. Fanno notare che sono stati cambiati due esterni di fascia, Cernoia è venuta sulla destra, mentre vediamo il colpo di testa e c'è la traversa di Girelli. Il tiro di Cernoia e c'è la traversa del 45esimo di Cernoia, Fattori si sbraccia, Leoni in uscita e tocca Sabatino e c'è il raddoppio quando siamo al 56esimo. Con maggiore aggressività e raggiungere il pareggio, in tiro e c'è il gol di Rinaldi, Eurogoal di Rinaldi dai 20 metri, lascia partire un destro e trova la traversa goal. Girelli, il sinistro, Miracolosa Leoni, si dimostra la grande giocatrice di cui tutte hanno la fama, il sinistro a incrociare e c'è il gol di Girelli. Sabatino in bocca a Girelli quando siamo all'84esimo. Rosucci E c'è il gol e la doppietta di Girelli. Calcio di rigore, calcio di rigore assegnato al... Linari è una rigorista. Tiro di Linari e c'è il gol di Linari, gol dell'ex. Linari chiude la partita, Linari esulta sotto il proprio pubblico. Bilbo può fare... Mauro dell'ex. ... م